E salve a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo video Quest'oggi mi vedrete in un video veramente molto molto particolare Che non avevo in programma di fare Però mi stavo girando i pollici, stavo controllando il mio profilo di Instagram E a un certo punto una mia iscritta, una mia fan, una mia follower Che saluto e ringrazio tantissimo Mi ha scritto un commento dicendo molto semplicemente Hai visto il nuovo Paint? E io ero tipo what? Io sapete che Windows non lo uso così tanto Quindi ho detto Microsoft ha rilasciato una nuova versione di Paint E allora mi è venuta in mente quest'idea Ho pensato di informarmi il meno possibile Scaricare questo nuovo Paint e fare una reaction Mentre lo provo insieme a voi Premessa molto importante Una volta aver registrato il video Mi sono effettivamente documentato Non lo avevo fatto prima perché appunto non volevo rovinarmi nulla della reaction E ho scoperto che in realtà questo nuovo Paint Che si chiama Paint 3D È disponibile da svariati mesi Da aprile del 2017 Tutti ne stanno parlando solo adesso Perché Microsoft ha ufficialmente smesso di supportare Paint normale Quello incluso in Windows come lo conosciamo tutti noi E quindi sta concentrando tutti i suoi sforzi su questo nuovo Paint 3D Quindi tratterò tutte le funzioni come se fossero nuove Godetevi questa mia reazione E io ringrazio ancora molto questa ragazza che mi ha dato quest'idea Senza la quale probabilmente non ci sarebbe stato neanche questo video Guarderò da questo lato perché ci troviamo anche sul mio desktop Peraltro desktop di Windows Per vedere un black geek su Windows Vuol dire che è proprio successo un qualcosa di particolare Beh io qui sul mio computer ho installate 4 versioni di Paint Paint del 1998 Paint di Windows XP quindi degli anni 2000 Paint come siamo abituati a conoscerlo oggi Quindi quello che è stato incluso in Windows 7 E poi abbiamo anche Paint 3D Che non me lo fa aggiungere al desktop Perché è proprio un'applicazione per Windows Tutte queste 4 applicazioni sono gratuite E quindi stavo pensando come video reaction Di fare una reazione alle 4 versioni di Paint Ma iniziamo con Paint del 98 e del 2000 Che per quanto ho potuto notare ragazzi sono identici Quindi quello del 98 ha qualche problemino a funzionare Usiamo quello di Windows XP Che i più giovani si ricorderanno Io ragazzi ho iniziato a utilizzare il computer Su questa applicazione su Paint Io a 3 anni facevo i peggio capolavori La cosa già più elaborata che si poteva fare Era disegnare praticamente delle sagome Cioè io potevo fare il rettangolo Lo potevo fare vuoto Oppure lo potevo fare pieno Ricordo che questo era lo strumento graficamente più complesso Una specie di spray che lasciava un po' queste macchie sul foglio Poi vabbè se eri un dio a disegnare Potevi anche fare disegni a mano libera Ma con il mouse è abbastanza scomodo Già più elaborato era O meglio è il Paint a cui siamo abituati tutti noi Che è quello appunto che troviamo in Windows 7 superiori Forse anche in Windows Vista Che vedete è già un pochino più fumettoso Ha più forme, a disposizione Ha più colori Ha un'interfaccia già più moderna Abbiamo vari tipi di punte, di pennelli Insomma questo già mi ricorda per esempio L'applicazione note per iOS Per farci capire meglio Già getta le basi per creare dei piccoli capolavori Per creare dei capolavori con questo Paint Bisogna essere dei malati Ma io sono sicuro che se noi adesso dovessimo andare su YouTube E digitare un qualcosa come Paint Speed Art Secondo me viene fuori un qualcosa di meraviglioso Ecco appunto Guardate questo sta facendo Babbo Natale In Paint Utilizzando vedete strumento pennello Con questa forma molto particolare A fare una cosa del genere Io non so se questa cosa è vera o falsa Sembra vera Non sembra fake Se è reale Non posso immaginare le ore Che questo ragazzo ci ha messo Ragazzi Andatevi a guardare questo video Perché è un qualcosa di veramente Incredibile Il suo braccio probabilmente Continuerà a fargli male Per i prossimi tre anni Santa madre dell'arte Infatti ragazzi Già vedete Qualche pazzo Con la versione di Paint Nel momento attuale ci può fare dei piccoli capolavori Ma io mi sono chiesto Se uno può fare dei capolavori Con una cosa del genere Come sarà il nuovo Paint 3D Come vedete qui mi appare già il pop up Per aprirlo Quindi non perdiamo tempo E apriamolo insieme Paint 3D Ripeto Non ho cercato niente Non mi sono voluto rovinare la sorpresa Perché questo alla fine È comunque un video reaction Io vedo che qui sopra abbiamo degli strumenti Giustamente essendo 3D In teoria dovrebbe Mapparmi un elemento Nelle tre dimensioni Allora andiamo con calma Io ho preso lo strumento pennello Prendiamo per esempio Il colore rosso E proviamo a disegnare qualcosa Ok fin qui ci siamo È il banalissimo strumento pennello Più veloce vado Più sottile Mi fa la linea Vedete Se invece ci sto tanto Mi fa la linea Molto molto spessa 3D Questo è lo strumento 3D Interessante Perché dovrebbe permettermi Di generare degli strumenti 3D Vedete Questa per esempio È una sfera Cioè si vede che è sferica Capito Infatti una volta tracciata Possiamo ruotarla Nel piano Perché infatti Questo non è un banalissimo foglio È proprio un piano di lavoro E noi possiamo far emergere La nostra sfera E farla lievitare in aria Raga questo è molto comodo Secondo me Per le proiezioni ortogonali Che vi danno da fare a scuola Oppure le tavole di tecnica Cos'è questo? Disegna in 3D Per esempio Facciamo una A La A di Andrea Ora io faccio schifo a disegnare Se avete visto il video Che ho fatto con mangaka Ve ne sarete sicuramente resi conto Ok questa è una A Senza lo spazio al centro Ma è una A E lui l'ha praticamente reso un oggetto in 3D Vedete uno può anche ruotarlo E lasciarlo così Ok io per esempio posso scrivere il mio nome Ho scritto Andre Perché Andre era troppo lungo E non ci stava Però linea teorica Se io dovessi essere una persona pigra A parte che posso ridimensionare queste lettere Il vecchio paint non andava a oggetti Andava a macchie sul foglio Quindi non è che ogni cosa che tu facevi Poteva essere presa singolarmente Spostata Si potevi selezionarla Ma non andava esattamente a oggetti Quindi se io per esempio Volessi copiare questa A Basta fare in teoria Control C Control V Incollo un'altra A E me la piazzo qua Poi abbiamo addirittura Dei modelli 3D umani Eeeh addirittura Cos'è The Sims A parte che li sto facendo tutti verdi Facciamo Homer dei Simpson Eccolo qui Questo non è tanto un'app per disegnare Da quello che ho capito Un'app per modellare Modellare cose molto semplici Toh facciamo un pesciolino rosso Che poi sono vettoriali no? Cioè io posso ingrandirlo quanto voglio Si sono un po' dei poligoni Senza texture Senza una texture ben definita Oh però oltre alle forme Ovviamente 2017 style Abbiamo anche gli emoticons Emoticons che possiamo praticamente appiccicare Mettiamo per esempio il naso da maiale All'omino Tipo una cosa del genere Ovviamente ogni cosa messa su un corpo 3D Ottiene quella forma Mi è parso di aver visto così Cioè per esempio io provo a mettere Che ne so Un cuore sopra il pesce Vedete che il cuore prende Cioè è come se fosse appoggiato sul piano Tipo LittleBigPlanet Ragazzi questa è Cioè sto rivivendo la mia infanzia La regolazione della luce Eeeh no ragazzi veramente Guarda che per chi non è capace di usare Cinema 4D vuole fare delle cose molto basilari Questo è anche meglio secondo me Perché è molto intuitivo Per essere paint Questo è un capolavoro Addirittura ho visto che c'è questo remix 3D Che è una sorta di community In cui tutti possono pubblicare i loro progetti Che hanno fatto in 3D tramite quest'app E uno può praticamente importarli nel loro progetto Per esempio facciamo un disegno a tema dinosauri Importo Qua clicco su scarica Eccolo qua Importo Vedete i vari modellini All'interno del mio foglio da lavoro Qua ho visto uno stegosauro No era un triceratopo Eccolo qua Triceratopo Contro Stegosauro Posso anche farlo Vedete è in 3D Quindi posso inclinarlo Posso vederlo sul piano No ok Così gli stiamo guardando la panza Così gli andiamo in groppa Lo ruoto di 90 gradi Lo facciamo più piccolino Lo posizioniamo qui Possiamo fare il triceratopo Che incorna Per esempio lo incliniamo leggermente Vabbè ok È poco credibile Però è sempre meglio Mi sta venendo troppo in mente La recensione di dinosauri Che ha fatto Yotobi Con quest'app L'avrebbero fatta sicuramente meglio Questo invece era un altro stegosauro Morto da un combattimento precedente Vedete è più lontano Quindi è più piccolo Un bambino ci passa le ore A giocare con questa applicazione Quanto è bella Mettiamo anche una piccola coccinella Che vola Eccola qui Una coccinella che vola Sulla testa del brachiosauro Ragazzi io mi sto divertendo Tantissimo con questo nuovo paint 3D È veramente veramente interessante Vediamo se ho imparato un minimo a usarlo Vorrei prendere tipo uno strumento piano Fare un piano in 3D Provo a riempirlo per esempio Di una tinta unita Facciamola verde Però io poi questo oggetto Posso renderlo in 3D? No Posso farlo con il cubo però Io creo un cubo gigante Proviamo magari a farlo verde E io lo posso praticamente Inclinare Eccolo qui In questo modo Ho fatto praticamente Quello che è un piano d'appoggio Comunque avevo ragione Vedete che molti lo usano Per fare questi piccoli art Cioè creano un piano Successivamente ci mettono sopra Le cose È veramente divertente Ragazzi mi sta piacendo tantissimo Questa applicazione Perché vedete Vi promette di creare Questi modelli molto giocherellosi Secondo me Vi divertireste un sacco Provate a scaricarla Se avete Windows Che è che non ha Windows Quindi ragazzi Io spero veramente Che questa reaction Al nuovissimo Microsoft Paint 3D Vi sia piaciuta Ovviamente non vuole essere Un tutorial Su come utilizzarlo Perché l'ho scaricato Da 5 secondi Neanche io so bene Come si utilizzi Se questo video vi è piaciuto Fatemelo sapere Lasciando un bel pollice in su Che mi renderebbe veramente felice Seguitemi su tutti i miei social network In particolare Instagram Magari mettete quello che avete fatto Su Instagram E taggatemi Così lo vedo Tutti i link li trovate Qui sotto giù in descrizione Cliccando qui ai lati Potete raggiungere altri miei due video Invece cliccando qui al centro Vi iscrivete al mio canale Se lo fate siete dei grandi Io vi mando un grande saluto E noi ci rivediamo In un prossimo video In un prossimo video